Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Miticot, oggi siamo qui nel terzo episodio dell'OhioCraft dove dobbiamo fare un sacco di cose direi prima cosa, ampliare la base poi fare una piantagione e poi trovare i diamanti dormiamo un attimo, dobbiamo andare a prendere legno sopra bene, 44 pezzi di legno mi sembrano abbastanza perciò possiamo tornare in base, prima però cercando delle canne da zucchero che non ricordo se ce le ho in base Mystical Blue Flower oh ecco le canne da zucchero, meno male tanti saluti avevamo già del legno, mannaggia va, 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 va nano 4 giusto si comunque quando nello scorso video vi parlavo del quel dungeon di ametista e che i mosti ci one shottavano si, è abbastanza vero l'ho provato nell'altro mondo e con l'armatura di diamante mi fa c'è 8 guerre di danno e poi tipo pure l'armatura di diamante me la sgretolavano come se fosse carta la servirebbe in questo mondo non ce l'abbia non ce l'ho tipo l'ametista che però non è viola come nel 1.18 ma è tipo rosa e sono molto rare e con quell'ametista ti fai armature davvero potenti e direi finito dormiamo di nuovo ho usato quindi due piccoli in ferro direi potremmo iniziare a fare le piantagioni scusate scusate e direi di fare una pala in ferro per prendere poi terra e sabbia una cosa che penso sia abbastanza inutile è giusto per fare dei blocchi speciali eccolo per esempio prendo facciamo della cobblestone e così graficamente vabbè con un utilizzo che fa della cobblestone speciale bellissimo e finita la pala direi che ho spianato un bel po' 4 sacchi di terra 64 per 4 quanto fa? non ho voglia di calcolarlo mettiamo qui la prima riga d'acqua poi scavaremo ancora più in là ok cuorempito e piantiamo abbiamo perso un seme ok no ora c'è un solo problema questa riga rimane vuota e per ora io ci coltiverei comunque i semi di grano dormiamo di nuovo direi che possiamo finalmente scavare stavolta per diamante andiamo un po' più in qua a scavare oh lapislazuli col carbone si è mapposto per un bel po' 63 si intolava in che direzione? ah dritto ok allora non vedo traccia di diamanti finalmente ahhh raga vi ricordate che avevo tre picconi ne ho uno e non si vede più cioè dall'altro lato oh veramente i diamanti vecchi ti vedono molto meglio di quelli nuovi uno due tre quattro oh ma precisamente precisamente tre per il piccone uno per il portale oh questo anche è maito del diamante piccone in diamante uh 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 depositiamo un po' di roba ametista ametista drop epico e parecchia perfetto allora saliamo per prendere qualche fiore per il portale per sicurezza prendiamone 12 per sicurezza perchè non so se bisogna fare pure gli angoli metto i miei fiori speriamo che ne bastino 11 prendiamo il diamante e ce lo buttiamo ha funzionato ha funzionato ha funzionato ha funzionato ha funzionato nella toilet forest giusto per vedere com'è anzi magari facciamoci pure un piccone che è meglio andiamo oh beh non l'ha chiusata solo là sopra questo da solo stick sticks si sentono rumori molto strani perchè quelle alce stanno volando quei tervi meglio non andarci ora esploriamo di qua bello minecraft vediamo un po' di questo tronco mangroove wood cosa è questa fa male no giusto neve effetto effetto dato un effetto un effetto frosted ah no eccolo qui oh perchè così tanta fame devo salire a prendere il cibo stacc e facciamo tante scale penso che 48 bastino direi di iniziare a fare una cala avete visto che sono infami quando vi dicevo che ci sono creature infami su mannaggia oh l'ho presa ok vabbè che c'ho il paracadute però oh nuovo albero che brutto lasciare la metà però c'è di nuovo mannaggia oh basta oh sono coperte cose partiamo da questo slime ti ammazzarei subito senza farmi colpire no mi ha preso è morto mamma mia più più questo che eh mi ha dato tappi eh cos'era quel coso e ci sono delle isole 8 chunk 9 chunk non mi fa vedere ah ok si stanno caricando i chunk ancora sono delle isole ora passiamo prima che cresci il gioco ancora tu ok meno male altre pacche fermo fermo cosa mi ha troppato una nuova la blu eh ho preso il coso eh cos'è questo un regalo natalizio eh allora fermi abbassiamo un po' la render distance ops va beh oh chi l'ha visto chi l'ha visto è morto è morto ok sabbia oh 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 ho detto che questo mondo è infame mannaggia nooo ah beh aspetta le nuvole lol vado giusto ripiattare questo no mi prende mi prende ok mi ha preso perfetto e andiamo bene allora vediamo un po' questo da un più cinque questo fa abbastanza schifo quell'armatura posso coltivarle forse con questo suolo ok oh primo melone prima anguria bene direi che il video può finire qui video abbastanza felice e penso lungo ci metterò un bel po' di editarlo perché quanto è 1h40 bene per oggi è tutto ci vediamo in un altro video ci vediamo iscrivetevi lasciate like al video e qui da Mythic è tutto ciao ciao